Buonasera a tutti e a tutte e benvenute in questa lezione dove parleremo di PR e Digital PR. Questa è la School, la Digital School di Aruba Business e vi diamo il benvenuto. Sarebbe interessante capire anche che tipi di progetti se ne avete mai fatti di Digital PR e raccontarci magari con un commento la vostra esperienza, qual è il vostro livello, se ne avete appunto fatti o se ancora non ne avete realizzati, così magari piano piano poi possiamo approfondire questa tematica con qualche commento, qualche domanda. Queste slide che state per vedere mi ha dato una mano, le ha create Lisa Guerrini che ringraziamo per il suo contributo. Dividiamo questa lezione in tre parti, in realtà sono due, la terza sono più delle indicazioni più facili e semplici che noi ci possiamo portare a casa in sostanza. Quindi vedremo cosa sono le Digital PR e le PR e faremo la differenza. Cosa fa l'agenzia di solito, quali sono le azioni che fa un'agenzia e a che cosa stare attenti. Quindi andiamo con la parte 1, cosa sono le Digital PR e che cosa sono le PR. Andando a prendere anche Wikipedia così abbiamo almeno uno di quei, diciamo, riferimenti istituzionali che possono darci delle definizioni. Come possiamo leggere, le PR sono, vengono chiamate, è un acronimo, le Public Relations, le pubbliche relazioni, dove prima del mondo digital, e ancora oggi ovviamente si effettuano, avevano anche un altro tipo di scopo. Quindi l'obiettivo principale è quello proprio di creare delle relazioni quando si fanno le PR. Mentre l'obiettivo delle Digital PR, almeno per quelle che sono la maggior parte delle campagne di Digital PR, hanno un obiettivo di promuovere qualcosa. Un prodotto, un servizio, un progetto o un evento, insomma, creano delle relazioni però più digitali da questo punto di vista. Anche perché, se ci pensiamo, è il termine relazione che ha un significato differente proprio nel mondo offline e nel mondo online. Chi fa un po' più di SEO e ha ascoltato le lezioni sulla SEO, la parola relazione somiglia tanto alle relazioni tra i documenti e ai link tra i documenti e servono anche a questo e tra un po' lo vediamo. Quindi per fare un confronto in breve tra quelle che sono le PR e le Digital PR, possiamo dire che con le Digital PR cambia il mezzo, che è una delle cose più importanti. Poi vediamo una comunicazione più mirata, c'è proprio una promozione, e il pubblico è più vicino al brand in questo caso, perché le Digital PR finiscono un po' ovunque. Infatti vediamo questo pubblico di riferimento, ovvero quando iniziamo a fare una campagna di Digital PR. Allora, da un punto di vista proprio delle PR classiche, il pubblico solitamente è un pubblico o interno o esterno, quando si fa questo tipo di comunicazione, quindi solitamente sono comunicazioni istituzionali e quindi è molto preciso il target e sono molto precise le direzioni dove noi mandiamo le nostre comunicazioni con le public relations, quindi quelle nel mondo offline. Mentre le Digital PR non è così facile distinguere l'interno con l'esterno, un preciso target, a meno che non si fanno delle campagne proprio mirate, no? Si possono mirare quelli che sono gli opinion leader, si può fare una campagna più dedicata agli influencer, si può prendere un database di email, però il problema è che su internet non ci sono confini. Quindi da un punto di vista propriamente di cambiamento, diciamo che il Digital ha aperto le comunicazioni a tutto il mondo e quindi di fatto quando si fa una campagna di Digital PR bisogna anche porre attenzione a questa cosa. Si deve fare attenzione anche ai termini che vengono utilizzati. Quindi ecco che quando andiamo a fare una campagna di Digital PR può finire anche all'interno dei social media e quindi capite come può cambiare effettivamente tutto. In breve sostanzialmente le Digital PR ci portano qualcosa che prima era più difficile, il contatto diretto con i clienti finali e con gli utenti. Perché appunto se una campagna finisce nei social media abbiamo la possibilità di entrare direttamente in contatto. Poi c'è un altro aspetto importante che nelle Digital PR si mira ad ottenere la viralità di un messaggio. Ovvero che se una campagna stampa, se il messaggio che si sta comunicando è molto forte, è molto probabile che abbia un eco importante. E questo ha un effetto positivo poi nella visibilità sui motori di ricerca. Quindi questo aspetto è veramente determinante per quanto riguarda le Digital PR. Appunto perché mentre nella campagna stampa classica si può avere un eco più o meno limitato, ti può riprendere qualche giornale, oppure hai una comunicazione molto mirata, ecco nel Digital può andare a finire un po' ovunque. Da questo punto di vista succede quindi un'altra cosa, che si cede totalmente il controllo sul messaggio. Mentre nelle PR classiche il controllo sul messaggio noi lo abbiamo è più forte, sul Digital questo avviene molto di meno. Tra le altre cose è una tendenza che avviene in tutte le campagne di marketing, dove addirittura sono stati scritti libri, articoli, eccetera, eccetera, sul fatto che quando una campagna tende a diventare virale proprio si perde il controllo, anzi la perdita del controllo delle informazioni certifica che la campagna è diventata virale. E ci sono tanti esempi anche che vengono dal mondo offline riportati sull'online. Un esempio su tanti sono le serie TV. Quando andava in voga una serie TV sui presidenti degli Stati Uniti, dove era stata realizzata con Kevin Spacey, ecco che i fan in America hanno cominciato ad aprire i profili Twitter ufficiali, tra virgolette ufficiali, del presidente Underwood che era il personaggio della serie di TV. Ecco, in questo caso la casa madre che detiene tutti i diritti ha scelto di lasciare in mano ai fan la comunicazione di questi personaggi e ha perso totalmente quello che è il controllo. E questa è un po' la sfida di Internet rispetto ai media tradizionali, ovvero la perdita del controllo di quello che è il nostro messaggio e ovviamente la perdita del controllo anche sulla reputazione. Abbiamo meno controllo perché le digital PR funzionano anche per una questione di reputazione. Se avete esperienza in questo campo, avete fatto qualcosa o già avete delle domande, mettetele in chat perché io vi sto leggendo, sto leggendo la chat e quindi ho la possibilità di vedere, quindi salutiamo sia Ferdinando, sia Ariela e tutte le persone che hanno incominciato a salutare all'inizio. Quali sono gli obiettivi della PR e quali sono gli obiettivi della digital PR? Allora, quello della PR appunto è sostenere la reputazione della marca, quindi va costantemente a creare valore a quello che è la marca e al brand. Mentre digital PR, l'obiettivo resta quello di diffondere e far circolare le notizie, in questo caso corrette e positive, per quello che può essere l'oggetto della nostra promozione. Quindi, se nelle PR classiche l'obiettivo è chiaramente quello della marca, quello di aumentare la reputazione o di mantenerla, di veicolare i valori di quella marca, e qui incomincia a diventare diverso l'obiettivo. Quindi diciamo che cambia totalmente nella parte digital PR la creazione del valore perché si passa proprio alla comunicazione del prodotto, all'iniziativa. Vi faccio un paio di esempi su questo. Se è un tempo per comunicare attraverso le PR classiche un evento, la comunicazione era totalmente relativa al singolo evento, al brand, quindi immaginiamo Sanremo, che tra l'altro sta per esserci, le PR, quelle classiche, sono rivolte all'evento in sé e a chi partecipa, no? Quindi escono comunicati relativi a chi presenta, a chi partecipa e all'evento. Nel mondo digital questa cosa è stata molto amplificata perché non solo vengono comunicate le singole cose, i singoli attori principali, le attrici principali della Kermess, ma vediamo di tutto. All'interno dei social vediamo molte clip, ad esempio, che sono anche ufficiali. Vediamo comunicazioni ufficiali su singole cose. Quindi diciamo che le digital PR portano questi messaggi a tutti e questi messaggi sono molto frammentati. Dopodiché c'è una vicinanza perché nel momento in cui io posso fare un'attività di digital PR posso iniziare a entrare in contatto diretto con le persone e avere dei feedback immediatamente, mentre le PR classiche per avere un feedback ci sono altre tipologie di cose che noi andiamo a realizzare. E da questo punto di vista si assottiglia sempre di più quella che è la linea di comunicazione che c'è comunque negli ambiti di competenza tra le digital PR e proprio il digital marketing, perché sono due cose che si vengono sempre di più a fare insieme e il digital PR di solito viene messo sotto quello che è l'aspetto più ampio poi del digital marketing. Quindi da questo punto di vista andare a creare all'interno della propria azienda o affidarsi ad un'agenzia che fa le digital PR può essere un momento di alta visibilità. Solitamente le agenzie che fanno digital PR vanno a stabilire anche diversi momenti all'interno dell'anno nel quale vengono effettuate le digital PR. Se ad esempio c'è nel modo specifico un e-commerce addirittura le digital PR giustamente si incrociano con il piano commerciale dell'e-commerce in questo caso, andando a prendere quelli che sono i momenti più importanti dell'anno che non sono solo i momenti degli eventi. Noi siamo molto abituati a pensare che le campagne pubblicitarie si fanno negli eventi importanti, quindi a Natale, durante l'estate ci sono le promozioni eccetera eccetera, ma in realtà un e-commerce ha tutta un'altra serie di momenti che può andare a sfruttare i nuovi prodotti in arrivo, ad esempio sono un momento molto importante. Quindi le attività di digital PR una volta che sono state ben perimetrate, ovvero che è stato scelto quello che è il perimetro dove l'agenzia o il reparto di digital PR si occupa, si può muovere con molta libertà all'interno del piano commerciale, del calendario poi commerciale per andare a diffondere i messaggi corretti. Poi cambia totalmente, forse uno degli aspetti più interessanti, dove si colloca l'attività di digital PR e dove si colla l'attività di PR all'interno di, chiamiamolo un funnel, un percorso, perché se diciamo le PR classiche, abbiamo detto che sono molto a sostegno del brand, vuol dire che andavano molto più vicino alla fase di awareness, alla fase di consideration. Poi raramente c'era direttamente quella promozionale. Mentre le digital PR possono andare ad agire su tutti i momenti del vostro funnel o del vostro customer journey o se usate altri modelli di percorso d'acquisto degli utenti, si parla ultimamente tanto, in realtà noi ne parliamo da 3-4 anni, del messy middle. Quindi è molto importante sapere che le digital PR possono effettuare delle campagne specifiche in ogni momento del vostro funnel, con degli obiettivi diversi. Per esempio, facciamo alcuni esempi. La awareness e la consideration sono le fasi più importanti per la parte promozionale, perché nella fase di awareness bisogna fare in modo che le persone vengono a conoscenza dei valori del brand e quindi tutta la campagna di digital PR si concentra nel far percepire questi valori. Mentre quella della consideration si tenta di far generare curiosità attorno al brand e quindi provare a entrare in contatto. Le altre fasi sono differenti, ovvero l'acquisition, quindi la fase dove una persona può effettivamente andare a effettuare un'azione, cambia totalmente all'interno del digital, anche perché le call to actions, se vogliamo dirla in inglese con la S finale plurale, vuol dire che ci sono tante azioni. In effetti è così in una campagna di acquisition, perché la campagna di acquisition non è solo io ti vendo un telefono, un prodotto e tu lo acquisti, ma può essere anche solo il rilascio di un lead, rilasciare per esempio l'email per un prodotto che sta per arrivare, per un evento che si sta per compiere. Quindi da questo punto di vista si possono impostare delle campagne digital, diciamo, differenti, no? E che mirano a molte call to action, però che puntano tutti all'acquisition. E poi abbiamo anche la gestione dei nostri contatti, perché noi potremmo fare una campagna di PR solo per chi ha comprato un prodotto, solo per chi ha comprato un biglietto, che non siano solo delle informazioni del tipo ti devi presentare a quest'ora, devi venire con il badge pronto, ma possono essere tutta una serie di informazioni sull'evento per viverlo al meglio. In fondo noi non vediamo semplicemente dei prodotti, noi non compriamo semplicemente dei prodotti, ma insieme ai prodotti compriamo anche le esperienze e quindi in una campagna di digital PR, una campagna di digital PR può sostenere l'esperienza che noi vogliamo veicolare alle persone attraverso l'acquisto di qualcosa. E questo è molto importante. Ci possono essere degli esempi molto pratici su questo. Immaginate un brand di scarpe che punta tanto alla comodità e che effettivamente le scarpe sono comode e può fare una campagna di digital PR a chi le ha acquistate dopo tre mesi dall'acquisto, per esempio, oppure se non si hanno questi dati così precisamente, si sa che nel momento dell'anno ci sono dei picchi, facciamo un esempio a Natale, dopo due mesi si fa una campagna per dire hai comprato le scarpe due mesi fa, come ti trovi? E di solito come ti trovavi con le altre marche? Non erano così comode dopo tanti mesi. Questo è un esempio di come si possono fare delle campagne di digital PR mirate specifiche per tutte le fasi che noi riusciamo a progettare in quello che è un percorso d'acquisto dell'utente. Ma quando è che effettivamente noi poi abbiamo bisogno di attivare una campagna di PR o di digital PR? Allora, l'attivazione della PR è facile perché riguarda quando abbiamo un prodotto nuovo è veramente molto semplice. Oppure ci sono delle iniziative aziendali che vanno comunicate perché ce lo dice il capo o perché noi siamo il capo e vogliamo farlo. Oppure ci sono le promozioni degli eventi a livello locale. Sicuramente tutto il mondo local è un mondo molto interessante sia per le PR che per le digital PR. Negli ultimi anni ad esempio, e questo è molto importante, le promozioni locali nei quotidiani locali, nei blogger locali. Quindi in qualsiasi progetto editoriale che abbia una collocazione territoriale stanno diventando fondamentali perché ci sono più, diciamo, segnali che Google prende nei suoi tanti algoritmi e nelle sue tante zone per poi andare a stabilire il valore di un brand. Passiamo dalla fase teorica alla fase pratica, di queste frasi che sembrano un po' lasciate lì ma che in realtà hanno un riscontro pratico. Due esempi particolari. Se un blogger sul territorio o una testata giornalistica quindi che ha chiaramente un intento locale, quindi un giornale su Bologna, fa, effettua una recensione di un locale di Bologna, quindi territorio su territorio, avvengono una serie di cose molto interessanti. La prima, una delle più interessanti è che questa notizia può finire dentro l'applicazione Google Maps. Google Maps la conosciamo tutti, applicazione utilizzata da un miliardo di utenti al mese e sul mondo local è una delle cose più interessanti di marketing da effettuare. Quindi perché finisce su Google Maps? Perché Google Maps ha un feed di notizie e quando noi l'apriamo ci mostra anche le notizie. Poi sta iniziando a finire anche dentro il feed di notizie che si chiama Google Discover e che abbiamo visto nella lezione sulla SEO. Google inoltre ha tutti i suoi algoritmi che vanno a identificare proprio quanto un brand è citato localmente nelle testate locali quindi ha l'influenza anche nella ricerca. Immaginate quindi di curare il brand di un'azienda locale o di un evento dovrebbero essere fatte due campagne totalmente differenti anche solo di digital PR una orientata alla local e due orientata al nazionale. Questo modo di agire è molto importante ed è fondamentale quando si va a fare la parte di comunicazione di un brand all'interno proprio di tutto quello che sono le digital PR. Le digital PR nel mondo digital si attivano infatti per tanti altri motivi il nuovo prodotto, i concorsi, i buoni sconto, la newsletter, le promozioni a livello locale ma davvero si fa digital PR per qualunque cosa. È ovvio che noi non è che dobbiamo fare digital PR per qualsiasi cosa che non abbia valore, dobbiamo farlo per quello che ha valore. Quindi abbiamo vari modi per farlo e inoltre le digital PR possono anche inserirsi in un contesto di notizie del momento. Non significa, attenzione, battere la news. Quello è un discorso editoriale. Ma se noi sappiamo che, facciamo un esempio pratico, e non succede sempre, però può capitare. Se noi sappiamo che c'è un determinato evento, tra l'altro questo è proprio uno dei temi dell'ultima newsletter di Google che ha mandato a tutti in Italia, essere attivi durante un evento. Noi lo sappiamo che c'è un evento. Se la nostra realtà fa un'attività durante un evento, possiamo attivare una campagna specifica. Lo stesso se noi sappiamo che c'è un personaggio famoso che sta per arrivare nella nostra zona e che questo ha valore per noi ovviamente. Quindi le digital PR sono proprio a livello macro, si possono attivare per qualsiasi cosa, ma bisogna attivarle quando effettivamente c'è un vero valore in quello che noi andiamo a fare. Altrimenti diventa poi inutile la digital PR. È un po' come quando si manda un'email, no? O una newsletter dedicata commercialmente. Io faccio sempre questo esempio, che poi non sono mai riuscito a ricordarmi dov'era la fonte di questa citazione, che è questo. Quando noi mandiamo una comunicazione via mail, e in questo caso vale uguale per le digital PR, dovremmo aumentare il valore di quello che stiamo dicendo. Perché, tanto lo sappiamo, noi che lavoriamo sul digital, siamo sommersi dagli input. Le grandi aziende tecnologiche non sanno più che cosa inventarsi per attirare la nostra attenzione. E allora, in un momento di questo tipo, noi stiamo mandando un'email. Qual è, facciamo l'esempio di un'email, la mentalità che deve avere la persona che dirige la campagna di digital PR o una campagna di email marketing? Si deve immaginare che sta mandando queste email ad una persona che è il destinatario o la destinataria è nel nord del mondo e sta passando il momento invernale più brutto della storia. Questa persona è al caminetto, al caldo, e fuori c'è una bufera. Il messaggio deve essere così tanto forte che la persona decide di prendere quella lettera, rispondere, uscire, andare all'ufficio postale e inviarla. Questo esempio, questa metafora, aiuta le persone quando si mettono a scrivere. Non significa fare un messaggio che non c'entri niente con la comunicazione o enfatizzare cose che non ci sono, ma bisogna cercare in tutti i modi di dare valore e importanza a quello che noi stiamo trasmettendo, facendo in modo che la persona che lo riceve dice cavolo, questa è un'informazione importante. È l'informazione che è importante. Poi è ovvio che si possono agire, si può fare con un titolo migliore, ma non sfociare in quello che oggi purtroppo fanno in tanti con il clickbait. Non è che se otteniamo più click succede qualcosa. Se al click non viene corrisposta poi un'azione seria e concreta nella pagina, non accade niente né per i motori di ricerca né per poi tutto il nostro business. Quindi, in breve, le PR tradizionali hanno il loro valore più alto a livello della stampa locale per quanto riguarda il brand e gli eventi. Le digital PR invece consentono un rapporto continuativo. Si può impostare una campagna di digital PR? Davvero, praticamente la possiamo impostare sostanzialmente con un ampio spazio temporale. Possiamo farla anche ogni settimana se abbiamo un brand che ha tante cose da dire. Le digital PR possono essere tracciate tutte. Questa è un'altra delle cose interessanti. Ovvero che io posso tracciare dall'inizio alla fine e sapere se stanno funzionando o no. Addirittura io posso andare a tracciare i singoli canali dove vengono veicolate le digital PR e sapere se quel canale performa o no. E dopo un po' di attività dire, sai cosa c'è? Per quando trattiamo nelle nostre campagne di digital PR questo tipo di argomento, quel canale non funziona. O lo miglioriamo o lo abbandoniamo e concentriamo le risorse su un'altra tipologia di canale. E poi, ovviamente, avendo la possibilità di coltivare il rapporto diretto con le persone che ci danno poi il consenso, eccetera, eccetera, è un momento molto importante. Quindi le digital PR sono una, diciamo, una forma di comunicazione molto importante che toccano tanti canali, tanti touch point e che se fatte bene possono portare molti, molti vantaggi. Poi c'è la fase di seeding, viene chiamata così, che il seeding è la pianificazione della distribuzione del messaggio in rete. È un aspetto che coinvolge anche le parti tecniche, sapere come funzionano determinate cose. Quindi un'agenzia o un'agenzia interna può lavorare su più livelli perché può fare una campagna sul blog, può fare una campagna sulla newsletter, può coinvolgere dei blogger, può coinvolgere influencer, può coinvolgere creator, può coinvolgere tutta una serie di soggetti esterni. L'importante in questo caso è quello di avere il messaggio, veicolarlo correttamente e poi diffonderlo a secondo del media che noi andiamo ad utilizzare. In questo caso, se decidiamo tramite video, tramite testo, cambiano le persone, i soggetti con i quali noi entriamo in contatto e cambiano gli ambienti nei quali noi andiamo a distribuire, diciamo, le risorse. E a secondo dell'ambiente abbiamo anche degli obiettivi un po' differenti. Ci sono alcuni ambienti dove noi tentiamo in tutti i modi di fare in modo che la nostra campagna di digital PR diventi virale e sono gli ambienti prettamente video. Mentre quando andiamo a fare una campagna più testuale, l'aggettivo virale, la parola virale, assume un aspetto un po' meno, diciamo, distributivo. Sì, ci aspettiamo una buona distribuzione, ma l'andiamo a misurare con altri parametri. Quindi, ad esempio, con il numero di volte che noi veniamo citati in una campagna testuale. Una campagna video si vanno a calcolare altri parametri, come possono essere, ad esempio, il rapporto tra le visualizzazioni e le azioni che vengono poi effettuate. Se la campagna addirittura può essere raggiunta fuori dall'ambiente sociale nel quale noi andiamo a effettuare questa campagna, si vanno a tracciare anche i click e poi da questi click quante persone hanno effettuato delle azioni sul nostro sito, in modo da avere una bella dashboard che ci dice, ok, hai fatto 150 video, sono uscite 2 milioni di visualizzazioni, però attenzione, purtroppo i click sulla pagina sono stati veramente pochi, anche se questi pochi poi hanno convertito. Quindi, in questo modo, noi riusciamo a dosare per bene quella che è la nostra poi pianificazione editoriale sempre più nel dettaglio e nella precisione. Quali sono le fasi che di solito un'agenzia o una realtà interna va a effettuare nella fase di seeding? Innanzitutto c'è la parte più importante che è quella che è l'analisi del mercato che va a verificare non solo, in questo caso, tutte quelle che sono le community di riferimento, i bisogni, i linguaggi, ma si va anche a fare una sorta di indagine interna, si capiscono quelli che sono gli obiettivi e si portano fuori queste informazioni per vedere quelli che sono poi le realtà all'esterno che possono matchare con noi. Il nostro messaggio non deve essere diffuso da tutti, deve essere diffuso dalle persone che condividono i nostri valori e parlare negli ambienti dove i nostri valori possono essere espressi, questo è molto importante. Quindi si va a fare la ricerca delle community di interesse. In questo caso poi si va nella scelta di influencer e creator, ci sono agenzie anche che fanno solo questo, poi si elabora la strategia, qual è il messaggio che vogliamo veicolare in quell'ambiente con quei creator. Solitamente con i creator, quando si fanno le digital PR, la cosa migliore non si dice al creator che cosa fare, ma il creator che cerca di declinare il nostro messaggio e i nostri valori con il suo linguaggio, altrimenti il messaggio della persona che fa content creation perde di valore e anche di significato. Si costruiscono le relazioni con contatto, ingaggio eccetera eccetera, ed è molto importante in questa fase tenere in considerazione che la relazione va coltivata non solo con gli utenti finali, ma col creator, la creator o con i soggetti nel tempo, perché altrimenti diventa una cosa sterile che viene fatta una sola volta e molte volte poi è chiaro che è solo una marchetta come viene definita, anche se dobbiamo dire che le generazioni nuove che sono più abituate ai video brevi su TikTok, su YouTube e su Instagram, la percezione della marchetta è inferiore rispetto alle generazioni precedenti, anche se sono più attente queste nuove generazioni. Diciamo che hanno una tolleranza su questa cosa, ma sono più attente, definiscono meno i limiti di una marchetta e la tollerano, ma se è una cosa diciamo spudonata sono più forti nel tirar fuori poi le persone dalla loro rete. Poi c'è il seeding quindi operativo con la costruzione del calendario editoriale che solitamente viene diviso tra l'interno, tutti i siti di proprietà, e l'esterno, tutti i siti con i quali, le persone con le quali siamo entrati in contatto, e poi c'è la reportistica. E nella reportistica questa varia a secondo poi di cosa noi andiamo a utilizzare. Si creano proprio delle dashboard specifiche, ovviamente è una fase in cui si sono già scelti quelli che sono gli obiettivi e quelli che sono i KPI che noi vogliamo andare a raggiungere, e a quel punto la dashboard si crea su queste informazioni. Le dashboard vanno solitamente a raccogliere dati da più fonti, non c'è solo il tool di analitica, ma bisogna prendere anche i dati social o i dati sui siti internet. Per questo le dashboard migliori sono quelle che riescono a prendere molte fonti dati e andare a incorporarle. Uno degli strumenti gratuiti che c'è a disposizione è quello di Google, che si chiamava fino a qualche mese fa Google Data Studio, e oggi si chiama Looker Studio. Poi ci sono gli strumenti come quello di Microsoft BI, Business Intelligence, che fa più o meno la stessa cosa a livelli diversi. Ecco, questa è la prima panoramica. Che cosa sono? Ci sono domande su questo aspetto? Vediamo se finora avete delle domande. Aspettiamo Antonella. Ok. Ci puoi mostrare la slide precedente? Questa. Credo che sia questa. Ok. E' questa Antonella? Così andiamo poi... Ok. Fatti pure uno screenshot di quelle che sono queste informazioni, almeno quelli che sono i passaggi più importanti. Allora, vediamo qualche domanda prima di passare al secondo passo, cosa fa l'agenzia, e poi il terzo lo concludiamo velocemente. Allora, Ferdinando ci chiede, io uso SEMrush come strumento, lo ripeti valido alla pari di quelli citati? Sì, SEMrush è un ottimo strumento, è uno strumento che ti consente di fare veramente tante cose, e consiglio sempre di fare... Quando abbiamo dei dati che possono essere presi dalle fonti ufficiali, di utilizzare gli strumenti ufficiali, ovvero, su SEMrush non vado solitamente a prendere le chiavi per le quali il mio sito compare nei risultati di ricerca, perché uso la Google Search Console. Su SEMrush vado a prendere altre cose che sulla Search Console non ho. SEMrush ti fa, e a questo si riferisce Ferdinando, anche l'analisi dei competitor, e quindi riesce a capire ai competitor cosa stanno facendo. E in questo caso è molto utile. Quello che SEMrush non fa, non ti collega le tue fonti dati di proprietà che hai all'esterno e te le importa, almeno su quelle che sono le cose principali. Per questo motivo si usa in concomitanza, solitamente. Anche noi in agenzia usiamo sia SEMrush che SEOZoom, sono differenti, hanno due visioni differenti, perché SEOZoom è più orientato per gli aspetti content e SEO e da poco ha aperto anche tutto l'aspetto internazionale ed è fortissimo sul mercato italiano, SEMrush è fortissimo sul mercato internazionale. E quindi sono strumenti molto validi e sì, assolutamente continua a utilizzare SEMrush perché è uno degli strumenti più validi che abbiamo a disposizione. Non so se ci sono altre domande. Ok. Allora, bevo l'acqua. Andiamo su che cos'è che fa l'agenzia. Andando a vedere ovviamente tutto quello che ci siamo detti fino ad ora. Approfondiamo i punti che, se ci sono su Wikipedia, ma li prendiamo solo come punto di riferimento ovviamente. Allora, le attività sono queste. L'aggiornamento è costante per le piattaforme, quindi dove andare a veicolare questi messaggi. Cambiano sempre. Ora, non pensiamo solo al fatto che nasce una nuova piattaforma. Esce TikTok, esce BeReal, esce un'altra piattaforma, ma proprio anche community di settore che nascono. Ne stanno nascendo sempre di più, gruppi, eccetera, eccetera. La stesura dei contenuti, che deve rispettare alcune regole. La gestione dei profili è un altro aspetto importante, sia, diciamo, di social proprietari, che qualche cliente può avere, sia proprio dei propri clienti. il coinvolgimento dei contatti nel progetto, l'alimentazione e anche la creazione del passo parola, la gestione dei servizi di assistenza, il monitoraggio della rete e l'individuazione di alcuni KPI in questo caso. Andiamo a vedere le cose più importanti che l'agenzia fa di queste cose che abbiamo visto e andiamo a spacchettarle un po' per chiacchierarle e approfondirle, perché così è semplicemente una lista. Allora, la prima cosa, cura l'immagine e dà forma al messaggio che il brand vuole comunicare alla rete. Quindi, in breve, che cos'è che fa l'agenzia? L'agenzia fa il brief, quindi va in contatto col cliente e incomincia a fare domande. Dopodiché, presenta le proposte di sviluppo dell'attività di digital PR e infine va a proporre dei modelli di tipologia di contenuto e modelli di seating dello stesso contenuto. Ovvero, c'è una fase di briefing dove raccogliamo tutte le informazioni che noi abbiamo a disposizione. Quindi, facciamo un sacco di domande, le raccogliamo, chiamiamo quelli che sono i valori del brand, chiediamo se sono state fatte attività del digital PR prima, che tipo di attività di campagna marketing si fanno, se c'è un piano commerciale, se c'è il calendario commerciale, se c'è tutte queste informazioni, quali sono i valori del brand, eccetera, eccetera. Quali sono i prodotti più venduti, tutto. Dopodiché tentiamo di capire dove effettivamente l'attività di digital PR può fare la differenza. C'è una carenza di percezione del brand? C'è una carenza di ricerche poco frequenti sul brand? Sta per uscire un prodotto? C'è un momento dell'anno in cui si vende tanto? Si fanno queste analisi e si dice ok, l'attività di digital PR potrebbe essere molto efficace in questi tre momenti. Individuati i momenti si propongono gli sviluppi. Individuati gli sviluppi si propongono proprio le tipologie di contenuto che possono essere più impattanti e i modelli di distribuzione dei contenuti che possono variare. Se noi abbiamo tre momenti, non è detto che in tutti e tre momenti abbiamo lo stesso tipologio di contenuto. Questa è la sfida più bella. è che le digital PR ci pongono. Perché noi possiamo avere il picco di vendita e quindi è chiaro che possiamo fare determinate tipologie di contenuti. Ma se devo fare una campagna di digital PR che punta alla percezione del valore del brand, la mia campagna sarà quasi sicuramente una campagna video. Quasi e sicuramente. Quindi dovrò andare a fare altre tipologie di sviluppo di contenuti e altre tipologie di seeding del contenuto. Quindi, primo inizio. Secondo step, l'aggiornamento costante e continuo delle piattaforme. Che significa? Significa che l'agenzia va a individuare quelli che sono i luoghi, dove si trova il pubblico. Non si trova dappertutto, no? Individua il format del contenuto più adatto alle piattaforme dove ci sono. Quindi, dove andiamo, perché, con quale format conosce e sfrutta le dimaniche della piattaforma. Facciamo due esempi pratici di questo, anche di più. Poi, se avete qualche esempio pratico che vorreste fare all'interno di un social o di qualcosa testuale, vi rispondo. Però facciamo un esempio. Campagna di brand. Devo fare una campagna brand. In questo caso è stata scelta una campagna di brand video. E devo fare in modo che il brand sia percepito in modo più forte. E quindi, i social, gli ambienti sociali dove io posso fare una campagna di brand e posso anche fare pubblicità, dove prendo in considerazione, in base al target, possono essere, o solitamente sono, poi variano, ce ne sono anche altri, YouTube, TikTok e Instagram. Ora, se io vado a creare un video breve, è ovvio che ha un linguaggio differente da un video lungo, non solo. Il video breve, se lo decido di fare un video breve per poi anche promuoverlo, TikTok e Instagram hanno esclusivamente questi video brevi. I video lunghi su queste piattaforme sono poco visti. I video lunghi di solito vengono messi su YouTube. Però avviene un'altra cosa. Su YouTube, gli algoritmi che regolano la visibilità dei video lunghi sono degli algoritmi che vanno a calcolare altri parametri rispetto ai video brevi. Ecco che qui interviene l'expertise tecnica, la conoscenza tecnica dei singoli formati nei singoli ambienti, che ci va a dire in che modo creare il contenuto, quali sono i punti fondamentali per quel tipo di formato e che tipo anche di advertising si può andare a creare per il singolo contenuto. Questo significa andare a sfruttare le dinamiche di piattaforma, fare una campagna di seeding che abbia un senso, raggiunge il pubblico correttamente. Quindi non è così facile perché non mi basta andare a leggere delle linee guida che ci sono in giro, ma devo aprire la mente e cercare di calarmi in tutti gli ambienti sociali. Questo tipo di lavoro, di solito, quando si parla di digital PR che viene declinata sui social, viene sempre accompagnato da risorse esperte che non solo conoscono gli ambienti sociali da un punto di vista di consulenza, ma che li vivano come creatori o creatici di contenuti. Questo di solito viene fatto appunto perché bisogna conoscere i linguaggi delle piattaforme. Dopodiché che cos'è che fa anche l'agenzia? L'agenzia va ad avere una stesura di contenuti che quindi deve rispettare alcune cose. Ad esempio, se andiamo a distribuire i contenuti testuali, è ovvio che, primo, i valori del brand si devono conoscere e bisogna capire qual è il tone of voice del brand, come parla il brand ai suoi utenti. Dopodiché, se andiamo a fare questa campagna testuale, bisogna prendere in considerazione la SEO. La SEO viene presa in considerazione anche sui video, ovviamente. Però negli aspetti dedicati ai testi, ci sono delle regole molto importanti perché è molto facile, e poi ve ne parlo, fare quello che viene chiamato spam e poi creare dei danni anche. Quindi ci sono delle regole diciamo da seguire. Quindi l'agenzia si occupa con tutta la sua expertise tecnica e strategica di andare a sviluppare e a fare la stesura dei contenuti o, se non lo fa l'agenzia direttamente, fornire le linee guida e fare una review. Sono due le strade che solitamente nella maggior parte un'agenzia fa. La gestione di profili, di social propri e dei propri clienti. quindi, di solito la presenza online ha anche la parte di social media management, quindi si fa anche questo. Nel caso, diciamo, che noi possiamo avere vari fornitori, c'è il confronto tra i fornitori, quindi un'agenzia non fa solo la parte strategica e operativa, può fare anche solo la parte strategica e declinare la parte, diciamo, operativa ad un'altra agenzia oppure addirittura andare in supporto. Le agenzie più bravi e più competenti vanno anche in supporto ad altre agenzie. Una buona agenzia di digital PR ovviamente ha poi una serie di contatti o di proprietà sulle quali distribuire i propri messaggi. Ci sono agenzie di digital PR che sono specializzate in determinati settori o in due o tre settori e in quei settori hanno i magazine di riferimento, ovvero o li hanno acquisiti o li hanno sostanzialmente creati. Questo è molto importante ovviamente. e fanno questo tipo di lavoro. Il coinvolgimento dei suoi contatti nel progetto e questo è importante. Una buona agenzia di digital PR lavora per forza in sinergia con quelli che sono blogger, influencer e creator ovviamente che ci sono da andare a definire e lo vanno a fare per aree di mercato. Quindi questo è davvero molto molto importante. una buona agenzia di digital PR ovviamente va a capire quelle che sono le iniziative che può mettere in atto il brand e anche quelle che non può mettere in atto un brand perché non tutti i brand sono predisposti e anche pronti per esempio a fare dei video su TikTok. abbiamo visto vari casi in questi mesi dove qualche personaggio in politica ha tentato di fare dei video su TikTok e la cosa molto interessante era sì che il messaggio su TikTok ha ricevuto molte visualizzazioni ma poi andando a leggere i commenti la maggior parte erano commenti di presa in giro ad esempio. Quindi l'abbiamo visto una buona agenzia sa che cosa consigliare e sa come consigliare poi diciamo i propri clienti dopodiché abbiamo il passaparola il passaparola è molto importante e quindi diciamo che si riesce l'agenzia riesce a stimolare quella che è la conversazione attorno al tema della digital PR ovvero che una volta che la campagna è stata messa in atto bisogna poi fare in modo che le persone ne parlino altrimenti poi serve anche a poco e ascolta la rete in cui poi cerca i contatti i luoghi virtuali dove ci sono le nostre persone stanno parlando del brand e vanno a inserirsi magari nella conversazione nel prodotto o nell'iniziativa dopodiché il monitoraggio quindi va ad ascoltare la rete e crea di solito anche quelli che sono i report di sentiment va ad individuare quelle che sono le criticità e le opportunità che ci sono sulle quali puoi impostare tutte le attività successive e quelle anche immediate e ovviamente informa su tutte quelle che sono le policy della gestione di crisi insomma tutte le classiche cose che si vanno a effettuare dopodiché e questa è la parte solitamente di reportistica si va ad individuare quelli che sono i KPI di successo o almeno si tenta di darsi degli obiettivi e come monitoriamo questi obiettivi facciamo qualche esempio nell'ambito social è molto forte il social engagement quindi tutte quelle metriche che ci aiutano a capire quanto il messaggio sui social riesce a ingaggiare l'utente quanto riesce a interagire quanto riesce a convertire quanto non solo la visualizzazione sono poco utili se non sono collegate ad altre metriche non mi interessa sapere che ho fatto un milione di visualizzazioni mi interessa sapere che ho fatto un milione di visualizzazioni e mi hanno commentato x persone anche perché se poi faccio un'altra campagna e le visualizzazioni arrivano a 10 milioni io potrei anche essere contento ma se i commenti sono uguali come numeriche alla campagna che ha fatto un milione quindi che ha fatto 9 milioni in meno di visualizzazioni c'è qualcosa che non va quindi questo è molto molto importante dopodiché abbiamo il traffico sul sito quindi le digital PR devono avere un impatto proprio su quello che è l'aumento di traffico organico diretto quindi noi andiamo a monitorare anche quello che è il traffico e da questo punto di vista il traffico può venire dai motori di ricerca ci può essere un aumento dai motori di ricerca ci può essere un aumento da tutte le applicazioni e i siti che sono orientati le campagne orientate alle notizie che ci sono e poi ovviamente abbiamo tutta la possibilità dei social consigliamo sempre di creare degli url che siano tracciati ovvero che se faccio una campagna su youtube e poi faccio una campagna su un altro ambiente sociale dove posso mettere un link che i link abbiano dei parametri che ci consentono di identificare poi la sorgente da dove sta arrivando il traffico così poi nella nostra console di analitica siamo in grado di distinguere le fonti di traffico i lead quindi andiamo a verificare quanti lead si parlo degli utm poi rispondo alla domanda ovviamente sui casi di studio antonella abbiamo gli utm ovviamente si proprio questo che abbiamo messo anche nelle slide il tool ce ne sono tanti questo è di app spot che consente una volta che hai messo il link di crearti il tuo url con l'utm e quindi insomma questa è una procedura sicuramente importante e le lead sono fondamentali io devo avere tutto il tracciamento e il controllo poi delle lead se la nostra campagna ovviamente è orientata al traffico è orientata che dal traffico mi porta delle lead quindi abbiamo un evento per esempio questa school dove state partecipando c'è una landing page per esempio questa landing page ha un form io faccio una campagna a me non interessa sapere solo quante volte viene citata questa campagna e quante persone poi l'hanno vista effettivamente sul sito mi interessa sapere le lead che ho ricevuto e non solo le lead che ho ricevuto generalmente ma mi interessa segmentarle mi interessa sapere ogni campagna che ho fatto quante lead mi ha portato questo è probabilmente una delle cose più importanti nella misurazione perché se noi abbiamo ricevuto facciamo un esempio 10.000 visualizzazioni e per facilitarci la vita nei calcoli facciamo 1.000 visualizzazioni ce le ha portate youtube 1.000 facebook 1.000 tiktok 1.000 comunicati stampa eccetera eccetera 10 canali e se io non ho segmentato le lead e ricevo 100 lead le ho ricevute generalmente queste 100 lead se invece ho segmentato e io vado a verificare dico ah vedi la campagna stampa mi ha portato 50 lead youtube 20 facebook 2 tiktok 25 questo tipo questo tipo di calcoli ci aiuta poi a capire le campagne successive di digital PR dove sostanzialmente spingo col budget perché altrimenti io per sempre il mio budget lo distribuisco in questi 10 canali e non so poi dove posso spingere di più o meno poi c'è anche il discorso della saturazione ovvero che magari con i comunicati stampa è inutile che sposto tutto il budget perché magari quelle 50 lead più di quelle non ce la faccio copertano può succedere questa cosa però è ovvio che a livello macro posso fare questi tipi di ragionamenti quindi poi anche l'aspetto delle revenue quanto effettivamente perché lead è un rilascio di magari un email o un numero di telefono ma poi quante di queste hanno veramente portato una conversione hanno convertito hanno acquisito poi effettivamente o nel caso in cui è gratuito hanno usufruito hanno esperito quella cosa perché è importante fare l'esperienza in questo caso quindi è importante controllare facciamo l'esempio delle school che voi state guardando non solo quante persone sono registrate ma poi quante effettivamente vengono ad ascoltare le lezioni è un dato importante concludiamo questa parte con la terza e lasciamo poi le domande per l'ultimo questa è una sola slide a cosa stare attenti e ci chiacchieriamo un po' su questa perché le digital PR hanno sicuramente alcuni limiti importanti rischiamo di farci prendere la mano di abusarne o rischiamo di farlo solamente per la SEO perché le digital PR hanno all'interno solitamente della comunicazione quando sono testuali un link e questo è il santo graal per chi fa poi le campagne di digital PR fatte bene perché il link porta un vantaggio diretto nei motori di ricerca quando la risorsa che ci sta linkando è una risorsa di qualità e quindi dobbiamo stare molto attenti ci sono agenzie che hanno fatto nel tempo molto spam ovvero hanno creato facciamo ad esempio tutta una serie di testi tutti uguali li hanno sparsi su internet e a tutti questi testi dove c'era la parola precisa per la quale volevano che il proprio cliente comparisse in alto nei motori di ricerca linkavano il proprio cliente a questo punto Google si è visto mille link tutti uguali tutto con lo stesso si chiama tecnicamente ancora quando voi passate col mouse per chi usa il desktop in questo momento sul testo e vi compare la manina perché è un link e quella è l'ancora quelle parole sono l'ancora l'ancore text si chiama e sono tutte con lo stesso ancora text Google dice ma no è una campagna non naturale è impossibile che tutti i link che questo brand sta ricevendo hanno al loro interno sempre la stessa parola solitamente nelle campagne di digital PR si consiglia almeno quello che noi facciamo è tranne in rari casi mettere il nome del brand linkare col nome del brand o linkare con il nome del dominio quindi immaginiamo di fare una campagna brand per Aruba Business consigliamo in fondo al comunicato stampa di mettere www.arubabusiness.it o togliere direttamente il www e fare arubabusiness.it o ogni tanto magari variare semplicemente senza il punto it mettere solo Aruba Business o se all'interno di Aruba Business abbiamo in questo caso la digital school a quel punto possiamo fare la digital school di Aruba Business quindi abbiamo questo tipo di varianti ma non andiamo a fare in modo che questo comunicato stampa poi ci sia il link ad Aruba Business sempre con la parola hosting 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 oppure digital 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 non ha senso e non è rilevante per Aruba da questo punto di vista quindi è molto importante tentare di fare delle campagne di digital PR che possono alzare il valore del brand e stare attenti a questa cosa quindi quando andiamo a fare questo tipo di pianificazione beh gli aspetti SEO sono fondamentali conoscere la SEO e la lezione che noi abbiamo realizzato è fondamentale per non rincorrere negli errori dopodiché ci sono oltre per esempio a SEMrush che viene citato prima da Ferdinando altri strumenti che ci consentono in modo più preciso di identificare qualcosa di importante ovvero quanti link noi stiamo ricevendo da internet quali sono le pagine che stanno in questo momento mettendo un link al nostro sito così possiamo identificare anche le campagne di digital PR che sono state effettuate in passato o andare a vedere quando aumentano questi link l'efficacia della nostra attività di solito si usano due strumenti in particolare quello di Google all'interno la search console di Google che consente all'interno di un pannello specifico che si chiama proprio link di avere lo storico dei link che noi riceviamo e sapere chi ci sta linkando oppure ci sono altri strumenti esterni che hanno dei propri database di link che sono stati accumulati nel tempo noi in agenzia usiamo quello che viene chiamato Majestic SEO è uno degli strumenti migliori c'è anche un altro strumento che si chiama AHREFS che fa questo tipo di lavoro ce ne sono altri ma questi sono secondo noi quelli migliori su Majestic SEO siamo abituati a lavorarci abbiamo l'estrazione storica di tutti i link e siamo in grado di ricostruire il profilo storico di tutti i link di tutte le campagne di digital PR che sono state effettuate a che cosa serve questa attività serve per capire a livello temporale cosa è stato realizzato e serve per capire se ci sono dei link attualmente che stanno mandando a delle pagine che non esistono più è una delle attività più importanti di recupero dei link quando abbiamo fatto una campagna stampa una campagna di digital PR 4-5 anni fa questi link puntavano a delle pagine che oggi il brand non ha più e che stanno dando un errore 404 qual è l'azione che di solito facciamo invece che dare il 404 perché Google vede questo link e la popolarità di questo link rimane lì e finisce non viene più distribuita all'interno del nostro sito e quindi lo stiamo perdendo effettuiamo un reindirizzamento 301 verso la pagina più vicina a quella che è stata cancellata perché solitamente è stata sostituita se non è stata sostituita verso la categoria principale se la categoria principale che si somiglia non esiste verso la home page almeno per recuperare un po' questi link quindi questo è un po' quello che noi andiamo ad effettuare con gli strumenti come Majestic sia sulla search console più o meno facciamo abbiamo il Google quanti link ci vede attualmente si sta parlando tanto anche dell'intelligenza artificiale perché Google sta mettendo in campo sempre più frequentemente quella che è l'intelligenza artificiale per andare a verificare diciamo la qualità di un link e ci sono stati degli update in questi ultimi periodi ci sono stati degli update dove Google ha dichiarato che ha messo in campo tutta un'altra serie di procedure che usano l'intelligenza artificiale per andare a identificare proprio i link di bassa qualità e ignorarli completamente e Google sta applicando l'intelligenza artificiale sempre di più lo fa da almeno cioè da tanti anni prima con il machine learning che poi effettivamente è diventata l'intelligenza artificiale negli ultimi anni e quindi le campagne che noi andiamo a effettuare se sono di scarsa qualità se non sono fatte bene non hanno più nessun tipo di vantaggio e addirittura tutte le persone le aziende che hanno investito in passato in campagne di digital PR che sono state fatte male oggi stanno perdendo le posizioni perché Google sta declassando il valore di quei link ovvero prima li valutava bene ora grazie all'intelligenza artificiale è in grado di fare dei calcoli più approfonditi e li sta valutando in modo diverso in modo minore a volte lì a zero quindi quello è quello che accade rispondo alla domanda di Antonella poi se volete approfondire qualcosa mettetelo con un commento qui in chat Antonella ci chiede se è possibile vedere dei casi di studio noi non abbiamo ancora dei casi di studio pubblici quindi non posso mostrarti i dati però ti posso raccontare cosa abbiamo fatto con praticamente il WMF con un osservatorio che è stato realizzato per Search on Media Group quindi tutto il gruppo ha presentato questa indagine nel corso degli anni un'indagine sui siti dei comuni quanto i siti dei comuni sono digitalizzati questa indagine è stata un'indagine molto importante che ha avuto un impatto e un rilievo grosso perché è andata a mostrare come i siti dei comuni non sono per niente digitalizzati e quindi si è creata molta consapevolezza le citazioni con il brand sono state tantissime abbiamo ricevuto una tipo 300-350 citazioni dell'indagine in modo la stragrande maggioranza di queste non con comunicato stampa quindi col fatto che le persone ne hanno parlato spontaneamente quindi non il comunicato stampa che poi noi siamo andati a declinare e le persone hanno ripreso ma con l'approfondimento persone che hanno letto il nostro comunicato stampa hanno visto i dati e hanno prodotto degli articoli e questo tipo di osservatorio ha ricevuto anche dei link importanti anche da siti governativi siti dedicati del governo che hanno linkato direttamente all'osservatorio hanno linkato e citato quelle che sono state le nostre analisi quindi uno dei modi più importanti per fare questo tipo di attività sono degli osservatori che puntano a migliorare quello che è un settore osservatori fatti non per denunciare niente ma per dire possiamo migliorare tanto insieme questo è un po' il lavoro che il WMF fa dalla sua nascita ovvero contribuire a creare qualcosa di più importante insieme a tutte le persone quindi questo tipo di classe di studio è stato declinato poi su altri clienti su altre tipologie di clienti non eventi e funziona molto da un punto di vista di digital PR si ottengono delle citazioni spontanee poi ovviamente nelle digital PR c'è tutto il mondo del pagamento ovvero che tu puoi pagare delle testate giornalistiche per fare in modo che il tuo messaggio venga pubblicato in determinate zone questo è riportato dalla stampa e quindi sulla stampa puoi pagare per avere degli articoli e puoi pagare anche sull'online e questo è un aspetto molto importante da tenere in considerazione non parlo dei piccoli blog o dei piccoli siti che ti chiedono x euro per pubblicare un articolo sto parlando di una campagna insieme al giornale dove viene ovviamente concordata questa cosa e quindi non tanto quanto costa 10 ti do 10 pubblicamelo ma rivediamo il contenuto insieme ci date più valore ci date più risalto cerchiamo di capire come questo tipo di attività lo dico non Tonella che ha fatto la domanda ma in realtà a tutte le persone che ci stanno ascoltando è un tipo di attività che viene messa con un budget distributivo ovvero l'agenzia stabilisce quello che è il budget per la creazione e la distribuzione nei canali interni e nei canali spontanei e poi distingue questo tipo di budget dal budget distributivo il budget distributivo è di solito concordato è sempre concordato col cliente e di solito viene declinato in base alle realtà con le quali si hanno gli accordi in base ai costi in base al tempo e tutta una serie di parametri che vengono presi in considerazione però l'attività di digital PR è un'attività sicuramente tra le più importanti non è un'attività solo per le grandi imprese Antonella è una sì tu dici l'attività del budget distributivo sì è una realtà di solito viene fatta per le medie in grandi imprese ma le PMI solitamente hanno un'altra via per farlo ovvero non investendo dei soldi nel budget distributivo a parte quelli che lo hanno ma hanno tutti gli accordi col territorio nella stragrande maggioranza dei casi le PMI sfruttano quello che è il territorio per riuscire a diffondere un messaggio e questo avviene sempre si agganciano agli eventi si agganciano alle realtà con le quali collaborano e quindi coltivano una rete se vuoi attivare una campagna di digital PR vuoi tentare di portarla avanti per dei clienti locali ti consiglio prima ancora di andare a stabilire quella che è la campagna di digital PR di andare a definire in che modo la realtà è collocata sul territorio e prima di proporre la campagna proponi un periodo di aumento della percezione del brand andando a creare delle collaborazioni sul territorio per creare delle sinergie questo è fondamentale quindi magari un sei mesi di lavoro sul brand sul territorio per poi stabilire tutte quelle che sono le sinergie che si possono creare e andare poi a effettuare le campagne di digital PR facciamo un esempio sul territorio si possono fare una serie di attività si possono fare delle attività col comune di di impatto sociale si possono fare delle attività con le associazioni si possono fare delle attività con le aziende che possono collaborare perché noi facciamo una cosa e voi ne fate un'altra si possono fare delle attività con influencer e creator locali si possono fare delle attività con le testate giornalistiche locali posso avere una rubrica su quel giornale una volta ogni due mesi ti fornisco un articolo esclusivo si possono fare una miriade di cose quindi si va a fare un piano per aumentare questo tipo di sinergie nell'arco di X tempo dopodiché si dice ok fatto questo andiamo a impostare le digital PR a quel punto tu i contatti li hai sono contatti con i quali hai fatto qualcosa si crea una campagna di digital PR e si crea magari in sinergie con qualcuno e si può andare a distribuire questa è un po' l'idea che che di solito si fa con le PMI che solitamente hanno una buona base sul territorio questo è ovviamente importante da questo punto di vista sicuramente per le PMI può essere una buona una buona soluzione poi dipende molto dalla PMI ovviamente perché c'è una PMI che non possono effettuare questa cosa ma lì si studia proprio quella che è la natura della PMI grazie a te Antonella ovviamente per la domanda e per ascoltarci qua per quanto riguarda questo intervento sulle digital PR poi cambiano ovviamente anche da tipologia di settore ci sono delle digital PR particolari che si fanno sui personaggi ad esempio si va a stabilire perché ci sono dei personaggi che hanno bisogno non parlo di proteggere la reputazione ma di crearla la reputazione di un personaggio quindi si può addirittura andare a effettuare veicolare da questo punto di vista per quello che noi abbiamo visto la cosa più importante se il brand riesce a farlo sono gli eventi gli eventi sono davvero il momento più importante per le digital PR perché hai la possibilità di stringere contatti hai la possibilità di distribuire qualcosa e solitamente sono gli eventi dove si è più attenti alle digital PR e ci si attiva tantissimo e l'evento se non c'è lo si crea ci sono aziende che hanno creato eventi fisici appositamente oppure addirittura hanno agganciato ai eventi esistenti il proprio o ancora lo hanno creato in un evento esistente quante persone durante il Natale o prima del Natale hanno creato il loro evento per agganciarlo al Natale è un momento in cui si attira molto l'attenzione da questo punto di vista e questo vale anche nella comunicazione uno degli esempi più belli ultimamente che ho visto di nell'ambito dell'editoria ovviamente di attirare l'attenzione su un'offerta commerciale pensate voi i giornali che devono vendere l'abbonamento è difficile vendere l'abbonamento in questo periodo c'è la gazzetta dello sport che ha un'offerta esclusiva gratuita per tutti i clienti da zone se sei cliente da zone puoi attivare l'abbonamento alla gazzetta dello sport gratuitamente la genialata delle persone che hanno curato questa campagna che purtroppo non siamo stati noi mi dispiace un po' sono quasi invidioso di questa cosa hanno creato nella home page della gazzetta questo messaggio offerta straordinaria offerta in questo momento importante col testo col copy la cosa incredibile è che l'immagine che rappresenta l'offerta varia durante la giornata a secondo di qual è il match più importante del giorno quindi quando c'era Juventus Napoli Napoli Juventus c'erano le facce del giocatore più importante della Juventus e del giocatore più importante del Napoli che aveva un'espressione facciale che mostrava stupore e curiosità appena è finita la partita il giorno dopo ce n'era un'altra è cambiata questo è molto importante il copy rimane uguale ma l'occhio della persona che è abituata ad avere ed aprire un giornale costantemente perché la home page è costantemente da user di ritorno cambiava l'attenzione e cambiava anche l'attenzione in base al tifo pensate voi io so che c'è un match di due squadre pensate voi quanto è bello c'è il match di due squadre vado su un giornale perché voglio delle informazioni proprio su quel match e una delle cose che attira l'attenzione è un'offerta commerciale dei geni incredibili vorrei avere i dati dei click e poi degli abbonamenti delle persone che hanno attivato queste cose perché credo che abbia veramente fatto un impatto importante secondo me è un caso di studio interessante anche da magari da sì sì assolutamente dei geni ma si può declinare ovviamente anche in ambito editoria che non sia lo sport perché uno può dire vabbè ok nello sport è facile a parte che non è facile perché se lo hanno fatto quest'anno almeno non so saranno 20 anni che c'è la casetta dello sport online io non l'ho mai vista fare quindi non è stato facile un giornale potrebbe anche farlo non con gli eventi perché poi questa cosa spugge di mano e ci mettiamo tre secondi al fatto che ci mettono la faccia di Mattia Messina Denaro su un'offerta e succede il patatrack ma sugli approfondimenti e sulle inchieste lo potrebbero fare ovvero mettere un banner una visibilità nella home per dire un'offerta straordinaria attenzione in questo periodo stiamo facendo delle offerte stiamo facendo delle inchieste con questo abbonamento vai a sostenere questo tipo di attività ecco questo è una cosa che si potrebbe andare a fare e ancora non l'ho vista fare in nessun giornale i giornali solitamente declinano queste campagne semplicemente sul fatto che ti abboni e sul fatto che li sostieni e sul fatto che puoi leggere gli approfondimenti ma non attirano l'attenzione sul momento attirano l'attenzione sulla l'offerta economica che dal mio punto di vista non è che è uno sbaglio è giusto farlo ma se dovete fare delle campagne di digital PR e fate degli sconti sappiate che gli sconti li fanno tutti e quindi è come essere al mercato passi c'erano le bancarelle e c'erano le persone che ti credono che c'è l'offerta speciale tanto lo sai che c'è l'offerta speciale sei poco attento lo fai una volta poi la seconda non lo fai più quindi trovare dei metodi di questo tipo è molto molto interessante un altro aspetto fondamentale delle digital PR è la collaborazione immaginiamo un osservatorio o immaginiamo qualsiasi ricerca è molto importante trovare il brand più idoneo che certifica i dati è addirittura anche un brand che dà la possibilità di dire questa ricerca vale in questo settore facciamo un esempio una volta è stata fatta una campagna di digital PR una ricerca sugli hotel accessibili dove non ricordo il brand che l'ha realizzata non ricordo se era booking o booking o qualcuno di questi simili con la collaborazione della lega del filo d'oro quindi un'attività una non profit che si occupa di disabilità multiple che dice sì questi dati effettivamente sono veri e ci certifica non solo il dato in questo caso hanno fatto bingo ma ci certifica il valore del messaggio che stiamo andando a produrre poi ovviamente si può distinguere posso prendere un'agenzia che certifica il dato e un'agenzia che mi dà il valore a quello che stiamo facendo solitamente il lavoro si fa insieme si fa tra il brand che vuole fare questa campagna e il brand non che certifica il dato ma che certifica il valore la si fa insieme anche perché poi la forza distributiva è fortissima ebbene sapere che dietro un'indagine di mercato sull'accessibilità del turismo c'è la lega del filo d'oro non c'è neanche bisogno di bussare troppo forte ad una porta perché basta fare toc toc che aprono tutti e questa è un po' la metafora importante nelle digital PR non è tanto quanto siamo bravi poi a far diventare virare una cosa è quanto siamo bravi a dar valore a quella cosa è quanto siamo bravi a far percepire quel valore al mercato dove è importante quella cosa quindi da quel punto di vista è stata una campagna un'altra campagna molto importante se invece vogliamo fare un parallelismo e trovare una campagna che ha puntato totalmente sulla viralità senza sì con l'importanza del dato per chi l'ha data ma non certificata perché non c'era l'obiettivo di questo è stata l'università se non sbaglio Cusano l'università Cusano aveva fatto un quiz molto bello che puntava sull'emotività delle persone e dopo che tu facevi questo quiz ti diceva qual è l'università che avresti dovuto fare nella vita e invece hai sbagliato a fare l'altra e questa cosa era molto curiosa ha creato molto dibattito all'interno dei social perché poi le persone dicevano ecco lo sapevo che non dovevo fare filosofia lo sapevo che dovevo andare a fare non lo so un altro tipo di di facoltà e quindi ha puntato su un altro aspetto quindi queste campagne di digital PR non è che ci insegnano come fare una campagna di digital PR perché poi tutta la parte tecnica tutta la parte più operativa può essere più o meno interessante ma se da a priori non abbiamo una mentalità che tenta di capire che tipo di campagna è è sulla curiosità o è sul valore bene se è sulla curiosità devo andare sulla parte emotiva se è sul valore devo andare sul brand cioè è proprio che dobbiamo metterci nell'ottica diversa non è importante la parte tecnica ma è importante la parte strategica di pensiero in una campagna di digital PR poi possiamo farne quante ne vogliamo la cosa importante è che se facciamo una pianificazione delle digital PR almeno una all'anno che ha un'importanza forte la dobbiamo fare quindi anche questo c'è da discuterne possiamo fare delle piccole campagne di PR ogni tanto ma se poi diventano tutte piccole campagne di PR il valore che noi portiamo può non essere così forte almeno pianificarne una è fondamentale questo concetto è un concetto molto molto importante e solitamente nel mondo della content creation viene definito come una suddivisione della tipologia dei contenuti che vengono chiamati in termine tecnico hero content sono contenuti super mega visibili oppure hub content sono dei contenuti un po' meno visibili e poi hygiene content o help content contenuti giornalieri in una distribuzione di content marketing il contenuto giornaliero è il video al giorno il video alla settimana il video che facciamo ogni tanto per aggiornare la nostra fanbase non è che lo guardano tutti se abbiamo 10.000 persone che ci ascoltano su youtube lo guarderanno mille come esempio lo guarderanno 500 un hub content invece lo guardano 3-4.000 mi sono impegnato lo faccio una volta ogni due mesi l'hero content lo guarda non dico tutto il mondo di youtube ma almeno tutta l'audience che fa riferimento al mio tema sì non sono 10.000 persone sono 30 40 50 100.000 persone è un hero content l'hero content si progetta così come una campagna di digital marketing di digital PR fatta bene anche questa si va a progettare quindi è molto molto importante tenere in considerazione questa cosa nella progettazione non so se ci sono altre domande magari aspettiamo un attimino così siamo poi ai saluti c'è la prossima lezione con Morloi Grazioli sull'ultima sull'email marketing ok dove è? arriva arriva eccola qua è arrivata first party data ok va bene direi che con questo abbiamo settimana abbiamo ultimato noi vi diamo appuntamento con la digital school di Aruba Business il 25 di febbraio con Grazioli che ci parlerà dei first party data è importantissimo tra l'altro e si collega anche ovviamente alle digital PR avere il dato di prima parte buonasera a tutti e a tutte grazie a tutti grazie a tutti grazie a tutti Grazie a tutti